Nasce in Abruzzo un'associazione regionale per la valorizzazione dell'arrosticino d'Abruzzo. Lorenzo Ferrocchio, presidente di questa associazione, com'è nata quest'idea e qual è il vostro obiettivo? L'idea direi che risponde ad una necessità strategica di questo settore della produzione di arrosticini che è proprio un settore economico con migliaia di addetti, un mercato che stabilmente tra diretto e indotto è ben oltre il miliardo di euro l'anno, quindi non è più un gioco goliardico da sabato sera. L'arrosticino è una grande opportunità per questo territorio, lo diciamo da anni. Oggi per la prima volta esiste un'associazione strutturata, che finora è mancata, di produttori regionali dal profilo industriale fino alla piccola azienda gestione familiare che può, in maniera competente e strutturata, mettere in campo una procedura con l'aiuto della Regione e del Ministero delle Risorse Agricole per ottenere dall'Unione Europea un marchio IGP che aprirebbe risvolti veramente straordinari sia dal punto di vista del turismo enogastronomico, sia dal punto di vista della tutela dei consumatori perché ci sarebbero prodotti di standard qualitativi importanti e sia per l'immagine di questo territorio che indubbiamente ha bisogno di essere promosso meglio in Italia e all'estero. L'arrosticino è un po' il simbolo della nostra regione? È il simbolo della nostra tradizione agropastorale e come si dice è un prodotto mitizzato, è un prodotto della memoria della nostra popolazione, della cultura alimentare povera del territorio, ma è anche, ripeto, una grande opportunità economica già diffusa molto in Italia e all'estero e è arrivato il momento di impedire che, ad esempio, i cinesi, come stanno già facendo, possano produrre questo prodotto vendendolo per arrosticino d'Abruzzo quando non è l'arrosticino d'Abruzzo.